Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Alicia ed eccomi tornate con un nuovo video Anzi sul canale è proprio una cosa, infatti avete sentito il rumore, sentite? Joseca di Sipac Diciamo carta, è di una serie tv tipo violetta, no questa è la serie tv, quella conosco molto Ehm, guardate E vi faccio vedere, no, le avete riconosciute? Se avete riconosciute scrivetelo la mano nei commenti, sentite il video Allora, il nome ve lo farò vedere alla fine Comunque, ehm, stavo dicendo, sei complicata Vabbè comunque, questo è un nane vero uovo di Pasqua, però l'ho comprato solo perché Oddio Mi ha fatto credere, no, madonna Smontato il computer Allora, stavo dicendo Stavo fare credendo L'ho preso solo per fare il video, ma non è il mio vero uovo di Pasqua Ce ne saranno molti alti Ah, alti, altri Allora, non vi faccio vedere i prossimaggi Infatti sa che la targhetta Vedere alla fine Così Allora Fashion friends Sono due, ve lo posso dire solo questo Vabbè, avete visto E due amiche Allora, fashion friends Il rumore Surpresa esclusiva Ed è la Dolphin Vabbè, non Dolphin 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 Con una chiamata che si chiamano Ciccolato al latte finissimo Senza glutine Comunque lo farò vedere alla fine Sono indecisa tra come aprire l'uovo Se con la testa, con il pugno O lanciarmelo a terra Adesso non me lo aprirò Vedete nei commenti Le prossime uova In che modo le dovrò aprire E la testa con Quello che coli Una mazza Sanno molte altre Madonna Ok, mi si è rotto Addio carta Ciao Io adoro le carte di Pasqua Comunque Prima di aprirle vi dirò chi sono Queste due Non so se non c'è Medio e bianca Buon odore Il cioccolato è normale L'odore, vediamo Plastica Perché le fanno di plastica? Non so, plastic free E' un po' rovinato Della cesta Dai Alla fine Ho sciolto Vedete la cesta Mette fuoco Mette fuoco Perfetto Vedete le sue dita Le impronte Buono E' un po' rovinato E' un po' rovinato Non c'è Che è un po' rovinato Comunque Mi hanno detto che lo apre con la testa Quindi Non è che mi spacco 3, 2, 1 3, 2, 1 Mi si è rotta la tasta Non è che si è bellissima Comunque Vabbè Ho scritto Coppia Decori Più Coppia Lacci Mi si è rotta Bellissima la tasta Sta diventando rossa Insomma un pochino Vabbè no Questo è un neo Qua Non si vede molto Però va bene Va bene Allora Dentro Era rotto il cioccolato Di su C'erano delle crepe Che non ho fatto io Guardate Cioè Anche qua Non è L'ho fatto proprio benissimo Guardate Questo pezzo volante Però Niente È perfetto C'è molte cose Difatti di fabbrica Il cioccolato Finissimo Non è che è proprio finissimo Però È molto più fine Degli altri Vedete Comunque Così Cerco La mia reazione Tanto mi si sta gonfetto Sembra di più La fronte È molto assente Questo cioccolato È molto concentrato Devo dire Che disastro Buono comunque Ho provato Quindi i lacci Di decori Di bianco Sì È bianco Non è che la sebo Stasera Però Non so Comunque Chi sono Questi Deccori Di meglio Ci sta Però Come lacce Mi piacciono Allora Sono dei normalissimi Lacci Con scarpe Fucsia Non sono Belli Resistenti E Credo Che Fanno così Che Vada No Sbagliato È giusto Così Dai Che voglio Fatti Dai Ci stanno Devo fare Il video Così Al contrario No Devo legare Sotto I capelli Rosio No Sono in tinta Dai Dicione E' una benda Che mi sono Fatta male Guardate C'è il fiocco Ovviamente Non ho fatto Il nudo Se non si doveva Più Sto Ok Adoro Adoro Poi ovviamente Anche altri Così Adoro Le mettiamo Anche questo C'è gente Che tipo Come braccialetti Si mette questi Quindi se Qualcuno Sto guardando Questo video Comprate Questo Sto guavo Perché Almeno Che Aspettate Guardiamo Se c'è Un listino Dei giochini Ah C'è Sono male Sono tutti Lacci No Ma io Vivo Queste Con scritto Gozi Non so Se si vedono Zumba Vedi Io volevo Questo Non volevo Ecco Bene Vabbè Questo E' che mi Prossimo Sto Di Maggi Bianca Perché Se Voglio Collezionare Anche Quell'altro Però Ci sto Come Sono Terini Ma Ci Però Non credo Che li Metterò Mai Così Che Questo Lo potete Utilizzare Come Breccia Per Me Un Tantino Troppo Parco Però Sto Che Fatti Così La Votterò Nel Paraccio Così E Diventa Super Carino Ok Aiuto Sta Facendo Ecco Mi Che Un Paio Di Foguer Ma Pero C'è Un Basta Votre Sapete La Celula Del Kater si può fare il rosetto marrone si guardate che è duro qui non so se si nota che è marrone però comunque si dovrebbe notare mi adoro il rosetto buonissimo buonissimo questo pezzo buonissimo se si nota guardate qua è il colore delle abbe qua è marrone adoro buonissimo vedete si vede un botto vedete qua c'è lì c'è buonissimo dunque spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un alti mi piace inscrivete al canale per supportarmi e per fare arrivare tutte le notizie attivate la campanellina per seguire stiktok alicelevo snapchat alicelevate instagram alicelevate e basta si basta niente ciao al prossimo video ciao ciao